E' morto nella notte Pier Francesco Forleo, direttore della direzione diritti sportivi della RAI, e marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. A rendere nota la notizia il presidente RAI Marinella Soldi e l'amministratore delegato, Roberto Sergio, al momento Ferracini non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla scomparsa del marito, Mara invece ha condiviso un post su Instagram nel quale ringrazia il genero per la gioia che ha portato nelle loro vite. La perdita di Pier Francesco Forleo, si legge nella nota di Viale Mazzini condivisa da Sergio sui social, ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale. Affabile e signorile, Pier Francesco Forleo è stato sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell'azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere. Ai familiari i nostri pensieri e le condoglianze nostre e di tutta l'azienda. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.